Questa è follia, non è Sparta, perché ragazzi il Belgio è eliminato dai mondiali, il Belgio è fuori primo, grande, dopo la Danimarca, clavoroso, colpo di scena, perché ragazzi il Belgio è fuori dai mondiali, non vi posso parlare della partita perché non l'ho vista, stavo dormendo, ve lo giuro ragazzi stavo dormendo, è stata una giornata molto impegnativa, quindi non sono riuscita a guardarla, ho provato a seguirla, ho visto solo gli ultimi dieci minuti nel quale mi è sembrato di capire che il Belgio abbia attaccato tutta la partita, ma questo ragazzi onestamente si chiama un po' karma, è un po' strano che io dica queste cose per una nazionale che diciamo tifo, secondo me, si la tifo abbastanza, perché ho detto che era tra le mie nazionali simpatizzanti, ma comunque ci ho bentornato in questo nuovissimo video, se è la prima volta che passate qua iscrivetevi. Ma Belgio ragazzi fallimento mondiale, fallimento mondiale perché non passano i gironi male, male ragazzi, il Belgio quest'anno veramente ha fatto un pessimo mondiale, mi viene da dire questo, ha fatto un pessimo mondiale nel quale ha subito dal Canada, li ha presi ragazzi, ha subito dal Marocco e alla fine si prende in saccoccia questo pareggio con la Croazia, totalmente imberitato perché la meritava per quanto riguarda la Croazia. Marocco che incredibilmente vince anche col Canada e passa il turno, è veramente questo Marocco che ha veramente fatto un ottimo inizio mondiale. Poi vabbè, agli ottavi ragazzi verranno eliminati perché hanno la sfortuna di beccare una del gruppo E, dove ci sarà o la Spagna o la Germania, probabilmente la Spagna, anzi no, loro le vuoi incontrare, la seconda quindi la Germania. E la Croazia che io ragazzi non do ancora fiducia, non mi dice niente la Croazia onestamente, magari può fare l'outsider come fece nel 2016 l'outsider il Portogallo perché vi ricordo ragazzi l'Euro 2016 che il Portogallo passo come terza e le vinceva ragazzi tutti ai rigori praticamente, le vinceva tutti ai rigori, alla fine incredibilmente sono riusciti a vincere l'Europeo. Peccato che la Croazia non abbia Cristiano Ronaldo che era senza alcun dubbio un valore aggiunto. Ma questo Belgio è terrificante, Lukaku ha sbagliato a porta vuota anche adesso, pallone che gli rimbalza ragazzi sulla pancia e non riesce a metterla dentro. E' incredibile ragazzi, è incredibile, e so che ho visto, è massimo incredibile. Vediamo adesso ragazzi cosa succederà nel gruppo E dove anche là può succedere qualcosa. La Germania non penso, ma non si può mai sapere visto che il calcio è strano Beppe. Vediamo, vediamo questo mondiale ragazzi che sta avendo tante sorprese e il Belgio è una di queste. Una squadra che non ha mai trovato ragazzi quest'anno il feeling, una squadra di vecchi, si dice di situazioni fuori dallo spogliatoio non ideali, con Rissa, Travertonghen e De Bruyne, perché ad esempio con l'intervista del Siamo i Vecchi, questo Belgio ragazzi che è finito, nel 2024 non potrà fare niente, l'europeo non farà niente, probabilmente Alderweirel, Vertogen lasceranno a nazionale dopo questo mondiale, probabilmente la potrebbe lasciare anche Hazard, e ora ragazzi sono tutti, è una squadra ragazzi nazionale di mezza età, anzi più verso la vecchiaia, non si può mai sapere perché, vi ripeto un'altra volta, il calcio è strano, quindi magari nel 2024 possono sorprendere vincere un europeo come abbiamo fatto noi, Certo, l'Italia e Belgio c'è qualcosa di un po' più, ma è la generazione assolutamente migliore del Belgio, che è stata assolutamente bruciata, il miglior traguardo è stato il terzo posto dei mondiali del 2018, dove se non avessero incontrato la Francia, in finale ci sarebbero secondo me arrivati al posto della Croazia, ma a propria prescindere avrebbero secondo me potuto fare un ottimo mondiale, e Belgio ragazzi che è veramente finito, non vedo più un Belgio che è dal prossimo mondiale, che sarà nel 2026, quindi se adesso vedete dei Bruyne a 30 anni, Lukaku giù di lì, mi sembra 28-29, l'anno prossimo, cioè nel 2026 ragazzi li vendremo con 34, 34 anni, 33, 32, sarà una nazionale ragazzi a fine ciclo, lo è già adesso, perché secondo me si chiude, una nazionale che è stata per anni mediocre come il Belgio, che tante volte non si è qualificato ai mondiali, tante volte agli europei, non ha mai fatto niente, questa generazione d'oro, io mi continuo a dire che è stata un po' bruciata, si poteva decisamente ragazzi fare meglio, ma io do anche colpe all'allenatore, do colpe ai giocatori come Lukaku, do colpe ai giocatori come De Bruyne che non ha per niente brillato, anzi è stato secondo me se dovessi stilare una flop 10, un flop 11, uno dei peggiori, non ha brillato ragazzi, forse l'unico che ci ha provato è Baciuay che alla fine è sempre molto sottovalutato, ma alla fine diciamo che la pezza ce la mette sempre, comunque Croazia che va agli ottavi, Marocco invece che sorprende tutti, e con Achimi, con giocatori come Achimi, come Masraoui, Ziyech, giocatori con una nazionale, niente di che ragazzi, una nazionale che oggettivamente non è niente di che, ma un insieme di giocatori che possono farti superare il turno, Canada che comunque, non dico che mi ha deluso ma poco ci manca, io mi aspettavo un passaggio al turno, e alla fine la Croazia ragazzi che bene o male ogni anno la passa sempre il girone, continua a non convincermi, ecco mi squadra, non sto dicendo che mi convinca, ma comunque l'importante era quantomeno passare i gironi, quindi incredibilmente fuori il Belgio, fuori il Canada, e dentro ragazzi Marocco e Croazia, quelle che avevo problemi, cioè praticamente mi ha capovolto la classifica, perché avevo messo Marocco e Croazia fuori, e dentro ragazzi Belgio e Canada, male Belgio, malissimo, comunque questo video si conclude, noi ci vediamo ragazzi stasera col video di Spagna e Germania, Ciao, ciao.